Ottimo, se vola è ottimo, perché la mia mira mi vuole qualcosa di spazio... Oh mio Dio! Oh ho ho ho! Come mi sento benevolo, abbiamo regalato la vittoria al nabino. Oh ho ho, buona vigilia ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare il regalo all'ultimo che troveremo in partita, quindi l'ultimo 1v1 finale, ragazzi. Noi cercheremo di dare appunto la win, che sarà un nabino, che sarà magari uno forte, che sarà magari uno che sa atterrare, a differenza mia, che non sa atterrare, porca vacca. Però adesso ragazzi andiamo a crociva conici, andiamo subito a fare qualche kill. Io sono proprio curioso di vedere l'ultimo che affronteremo, sempre se ci arriviamo in finale, ma fidatevi che arriviamo in finale. Sarà veramente un nabino, magari uno che non è un pro player, uno tipo best ragazzi. Ecco esattamente best, è uno di quei tipi di player lì. Vediamo se subito, diciamo, a prendere questa kill. Magari se mi riesco a fare il regalo, il regalo, vabbè. E il scildone, porca vacca, l'ho mancato. E questo? Ok ragazzi, non dovrebbero essere pro player, anche perché non avrebbe molto senso che sia un pro player. Mi faccio questo ragazzi, andiamo subito a pushare quelli lì. Ok, vedo qualcuno, vedo e soprattutto sento qualcuno. Dai, molto bene, ucciso, 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 dai. Beh, ma questo qua è forte, ma che sono player qui? Sono forti questi qui, dai, 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 dai. Porca vacca, ragazzi, certo che anch'io trovare un pompa non è che sarebbe una cosa brutta, brutta, brutta. Anzi, sarebbe una cosa decisamente positiva. Comunque ragazzi, ricordo se anche voi mi volete fare un piccolo regalo di Natale, come lo sto facendo io in questo momento. Ah, i nemici, aspetta, prima uccidiamo questo, magari dato che ci tengo a non morire questa partita. Che cavolo, ho voglia di fare il regalo all'ultimo. Non è che posso morire sopra di me. Ok, 52. Ok, vediamo se riesco a fare un edit. Ragazzi, sono molto peggiorato in questi ultimi tempi. Ok, morto, molto, molto bene ragazzi, molto, molto bene. Stavo dicendo che se anche voi mi volete fare un regalo di Natale, potete inserire nello shop il codice Powa. Così mi date veramente tantissimo supporto e vi ringrazio veramente tanto. Vi ricordo che si scrive Powa più doppi H con la calatina, se no, non sono io. Ecco qui un piccolino che morirà a breve. No, morirà di me. Che cavolo stai facendo? Scusami, vieni qua. Fratellino piccolino, vieni qui che adesso ti mangio. Ti mangio, ti posso far cadere distruggendo semplicemente quella. Infatti così farò e... No, non usare i guanti di spider. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, evitiamo. Oh, mamma mia, ma questo ragazzi. Ok, 70, l'ho fatto. No, eh, evitiamo di morire da questo perché non ci tengo sinceramente. Vorrei trovarne uno un po' più scarsino ragazzi perché se vedete sono a 0 punti. Cioè 0 punti, vabbè, 110 punti in arena ma perché semplicemente questi kick che ho appena fatto mi hanno dato 110 punti. Anzi, 125 adesso perché ho appena ricevuto il posizionamento. Ma in ogni caso ragazzi pensavo di trovare qualcuno di un po' più scarsetto però porca vecchia. Ma se dassimo la vittoria allo scienziato che dite? Ci facciamo uccidere dallo scienziato? No, no, no perché è un botte, non è una persona porca vacca. Che cavolo ti fermi su queste cose? Voglio andare oltre che uccidere ovviamente anche a dare la vittoria a un piccolino, un piccolino, un abbino. Ecco, magari chi ha iniziato a giocare tra non da tanto e questo. Mamma mia ragazzi, la cappa è qualcosa di esageratamente forte. Forte, oppure chi la usa che è forte? Questo io non lo posso sicuramente dire. Facciamolo cadere questo che... Da cavolo andrà? Ah, è qua, è ancora qua, è ancora qua. È ancora qua. No, ma questo che non mi sembra un abbino ragazzi. C'è zero punti ma mi sembra più uno smurf. Vediamo qua se riesco. Vediamo raga. Ok, no, ancora niente. Ok, no, non è, non è uno fortissimo. Oh mio Dio. Mi ha levato decisamente tanto. Ma, eh, ma questo che è ragazzi, ve lo dico io, non è scarso, eh. Non è scarso! Non è scarso, raga! No, ma non posso morire da questo, eh. Non posso decisamente morire da questo. Vorrei evitare... Ma mi ha pazzato il muro? Ma c'è quanta gente c'è ragazzi? Ok. No, mi ha rubato la kill! No, mi ha rubato la kill! Non ci credo, no ragazzi! No, 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 no. Ma così che non sono per niente scarsi! Questi, ragazzi, se sono scarsi questi, allora io sono... Mi chiamo Zio Paperino. Cioè, che cavolo? Come fanno questi qua a restare in vita fino a questo punto della partita? Intanto facciamoci gli sceldini, ce la facciamo easy, ragazzi. Tranquilli che con il codice Powa... Io mi sento molto più forte con il codice Powa. Voi non so voi, ecco, però... Magari... Evitiamo di fare queste giocate veramente bruttissime. Dovrebbe essere qua sopra. Cioè, è un cavaliere nero, ragazzi. Ma... Ma questo... Ma cosa sta facendo questo, raga? Oh mio Dio, Trent... Evidentemente mi puzza al sedere, ragazzi, per fare così poco col Pompass. E no, veramente non mi spiego. Ok, allora... Eeeh... Eeeh... Facciamo così... Niente. Raga, sono diventato magicamente un Nabbo. Ragazzi, vi giuro, non mi so più muovere. Perché sono diventato così scarso? Ho capito che sto facendo arena, ma è arena a zero punti. Cioè, non è arena agonistica. Ok, è un HP. Adesso ha veramente un HP, però, eh. Ottimo, se vola è ottimo. Perché la mia mira mi vuole qualcosa di spaz... Oh mio Dio! Oh ho ho ho! Let's go! Ce l'abbiamo fatto, ragazzi. Questo qua, ve lo dico. Lo posso dire. Mi stava sui Maroons 5. Sui Maroons 5. Il gruppo di cantanti. Uh, piccola personcina qui. Ma questo qua neanche... Ragazzi, ma perché non sto trovando quelli scarsini qui in queste orca, vacca? In questo caso sono pure del mio livello, eh. Cioè, non è che sono forti, ma non sono neanche dei fenomeni. C'è da dire questo. Niente. Ma ragazzi, si mettono in due contro di me, eh? È strano che mi trovo con queste persone qua. Non mi ritrovo quelli un po' più nabbini, però. Vediamo. Uh, ok, ok. Forse si fightano? No. Vogliono me questi qua. Veramente? Ma stai scherzando? Cioè, stai dicendo veramente? Uh, eccolo lì. Mamma mia, ragazzi. Cioè, ce l'avevo nel mirino o l'ho missato? Ok, gli ultimi colpi con la R. No. Mamma mia, raga. Perché sto missando così tanto? Ma basta! Ma perché prendi me? Ma scusami! Oh mio Dio, raga. Oh mio Dio, vi giuro che... Ok, ucciso, ucciso, ucciso. Molto bene. No, 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 no. Assolutamente no. Non puoi fare una roba del genere. Non puoi fare una roba del genere. Ho preso l'arma che volevo. Let's go. Ci siamo. Ok. E bra... Raga, questo qua è bravo, orca, ragazzi. Ho pure uno gnomo nel muro. E qua intanto... Qua faccio queste cose del genere. Tre scildoni! Molto, molto bene, raga. Comunque, alla faccia dei nabbini, ragazzi. Oh, magari l'ultimo sarà un piccolo nabbino. Intanto mi sono tirato sopra il pompon. Vediamo se riesco. Ok. Io non vorrei dire niente, ragazzi. Però ho i muri editati. E ciò mi ha rafforzato. Ok, l'ho ucciso! No! Come sono morto? Cioè, com'è morto? Se hai di dato tutto da solo... Non lo so, sentite. Non ho la più palida idea, ragazzi. Sto di fatto che abbiamo sette kill. Porca... No, no, no. Tu non mi uccidi. Tu non hai capito, caro. Ok. Penso sia stato questo a ucciderci comunque. Cioè, ucciderci. A uccidere lui. In ogni caso. Pronto alla laserata? No, perché Powa purtroppo è una mira un po' scarsina. Ragazzi, siamo a sette chielo. Soprattutto quattro persone rimanenti. Ok. Questo non era programmato. Ok. C'è... Qui. Ma che sta facendo? Ma perché? Cosa vuole fare? L'ho fatto cadere. Morto! Così! Così, ragazzi. Cioè, ho preso la kill così. Ok. Molto bene. Dai, raga. Mancano gli ultimi due. E io ve lo dico. Così. Gli ultimi due secondo me non sono dei pro player. E poi adesso mi fanno il sedere a striscia. Speriamo di no. Oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Oh. L'attoso mattarello. Cioè, eri pure nel cespuglio. Questo che, ragazzi, sono sincero, me lo terrei come ultimo da affrontare. Però non lo so. Ah, no. Non è il cespuglio. Oh! Oh, mio Dio. Ma è una mira più forte della mia. Eccolo qui. Ok. Non mi sembra un nabbino. Sono sincero, ragazzi. Cioè, a zero punti, ma non mi sembra un nabbino. Oh, mio. No, 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 no. Non posso, non posso morire. Non posso assolutamente morire. Non ho dei muri indistruttibili. No. Perché evidentemente io uccido otto persone, ma non ho i muri indistruttibili. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Ok. Facciamoci un altro box, raga. Vi giuro che io questa partita qua la vorrei vincere. Sembra che sto tryhardando. Ma giuro che non sto tryhardando per niente, proprio. Mamma mia, bella giocata questa. Questa game è piaciuta pure a me, ragazzi. No. No, ma perché? Ma fammi fare un shieldone. Oh, meno male. Non lo facciamo fare a lui, però, adesso, lo shieldone. Oh, mio. Eh, vabbè. Ma cosa che è, ragazzi? È il più forte di tutti, evidentemente. Ok. Vediamo se... No, non ho neanche più cure. Porca vacca. Uccido questo, uccido questo. Ragazzi, perché la gente è così forte? Allora. Allora. No, non volevo fare sta cosa. Non volevo fare sta cosa. Non volevo fare sta cosa. Oh, mio Dio. Ho un HP. Siamo tre persone rimanenti. E lo facciamo questo, il regalo di Natale. Perché, sinceramente, non so se mi posso salvare in qualche modo. Oh, 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 oh. C'è uno qui. Si sta fightando. È quello di prima. Non lo so. 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 È quello di prima. È quello di prima. Non è quello di prima. No, mi hanno fatto la kill. Porca vacca, ragazzi. Ma volevo regalare a questo qua. La kill. Io non ci credo. Ho un HP. E... Come mi sento benevolo. Abbiamo regalato la vittoria al nabbino. Beh, ragazzi. Che l'ultimo fosse un nabbino. Io questo non lo so. Il penultimo, assolutamente sì. Infatti, volevo regalare la vittoria. Quello solo che non ci siamo riusciti. Ma, in ogni modo, ragazzi. Abbiamo fatto un piccolo regalo di Natale. Anche a chi magari non riusciva a vincere. Vi raccomando se volete supportarmi. Il codice creatore POU. A P-U-P-H. Con la calcine. Sennò vi ricordo che non sono io. Grazie mille a chiunque mi supporta. Inoltre, iscrivetevi al canale. Che è un piccolo regalino di Natale. Così. Mi fate veramente molto, molto felice. Ciao belli. Ci vediamo. Ciao, 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 ciao.